Fu necessaria la tragedia nucleare di Hiroshima? Il 6 agosto del 1945 il mondo entrò drammaticamente nell'era atomica. Senza avvertimento nei precedenti, un aereo americano lanciò una bomba nucleare sulla città giapponese di Hiroshima. L'esplosione distrusse completamente più di 6 km quadrati del centro cittadino. Circa 90.000 persone vennero uccise immediatamente, altre 40.000 rimasero ferite. Molte delle quali morirono in una prolungata agonia a causa delle radiazioni. Tre giorni più tardi, una seconda esplosione atomica sulla città di Nagasaki uccise 37.000 persone e ne ferì altre 43.000. Complessivamente, le due bombe uccisero circa 200.000 civili giapponesi. Tra i due bombardamenti, la Russia sovietica si unì agli Stati Uniti in una guerra contro il Giappone. Sotto le forti pressioni americane, Stalin ruppe il suo trattato del 1941 di non-aggressione con Tokyo. Lo stesso giorno che Nagasaki veniva distrutta, le truppe sovietiche iniziarono a riversarsi in Manciuria, travolgendo le forze giapponesi ivi dislocate. Sebbene la partecipazione sovietica influì poco o nulla sull'esito finale della guerra, Mosca beneficiò enormemente dall'essersi unita alle ostilità. In una trasmissione diramata da Tokyo il giorno successivo, il 10 agosto, il governo giapponese annunciò la propria disponibilità ad accettare la dichiarazione congiunta anglo-americana di Postam sulla resa incondizionata, con l'intesa che la detta dichiarazione non comprometta le prerogative sovrane di Sua Maestà l'Imperatore. Il giorno dopo venne la replica americana, che includeva le parole seguenti. Dal momento della resa, l'autorità dell'imperatore e del governo giapponese a guidare lo Stato sarà soggetta al comando supremo dei poteri alleati. Infine, il 14 agosto, i giapponesi accettarono formalmente le disposizioni della dichiarazione di Postam e venne annunciato un cessate il fuoco. Il 2 settembre, i rappresentanti giapponesi firmarono la resa a bordo della colazzata statunitense Missouri nella baia di Tokyo. A parte le implicazioni morali, furono militarmente necessari i bombardamenti atomici. Secondo ogni possibile parametro razionale, non lo furono. Il Giappone era già stato sconfitto militarmente dal giugno del 1945. Non era rimasto quasi nulla della una volta potente marina imperiale e l'aviazione giapponese era stata totalmente annientata. È solo contro un'opposizione ormai simbolica che gli aerei americani percorsero a piacere il paese e i bombardieri devastarono le città riducendola in macerie. Quello che venne lasciato in piedi di fabbriche e officine si dibetteva precariamente per produrre armi ed altri beni da materie prime insufficienti. I rifornimenti di petrolio non erano più disponibili dal mese di aprile. A luglio, circa un quarto di tutte le abitazioni giapponesi erano state distrutte e il sistema di trasporti era vicino al tracollo. Il cibo era diventato così raro che la maggior parte dei giapponesi sopravviveva con un'alimentazione da fame. La notte tra il 9 e il 10 marzo del 1945 un'ondata di 300 bombardieri americani colpì Tokyo uccidendo 100.000 persone. Lanciando circa 1.700 tonnellate di bombe gli aerei devastarono buona parte della capitale bruciando completamente oltre 25 km quadrati e distruggendo 250.000 edifici. Un milione di abitanti rimasero senza casa. Il 23 maggio, 11 settimane più tardi arrivò il più grande raid aereo della guerra sul Pacifico con 520 enormi bombardieri B-29 Super Fortress che sganciarono 4.500 tonnellate di bombe incendiarie nel cuore della già malconcia capitale giapponese. Generando potenti spostamenti d'aria le bombe cancellarono completamente il centro commerciale di Tokyo e gli scali ferroviari e distrussero il quartiere dei divertimenti di Ginza. Due giorni più tardi, il 25 maggio un secondo assalto di 502 aerei Super Fortress spiombò su Tokyo sganciando oltre 4.000 tonnellate di bombe. Complessivamente questi due raid di B-29 distrussero oltre 90 km quadrati della capitale giapponese. Anche prima dell'attacco di Hiroshima il generale dell'aviazione americana Curtis LeMay si vantò che i bombardieri americani li avevano riportati all'età della pietra. Henry Arnold, generale in capo dell'aviazione dichiarò nel 1949, nelle sue memorie «C'è sempre stato chiaro, bomba atomica o non bomba atomica, che i giapponesi erano già sull'orlo del collasso». Questa valutazione venne confermata dall'ex primo ministro giapponese Fuminaro Konoye che disse «Fondamentalmente la cosa che ci spinse alla resa fu il bombardamento prolungato dei B-29». Alcuni mesi prima della fine della guerra i capi giapponesi riconobbero che la sconfitta era inevitabile. Nell'aprile del 1945 un nuovo governo guidato da Kantaro Suzuki entrò in funzione con lo scopo di porre termine alla guerra. Quando la Germania capitolò all'inizio di maggio i giapponesi capirono che gli inglesi e gli americani avrebbero diretto da quel momento tutta la furia della loro imponente forza militare esclusivamente contro di loro. Gli americani sapevano avendo decifrato diverso tempo prima i codici militari del Giappone dai messaggi intercettati che i capi del paese stavano cercando di porre fine alla guerra nel modo meno sfavorevole possibile. I dettagli di questi sforzi vennero appresi dalle intercettazioni dei messaggi segreti tra il ministro degli esteri giapponese e i rappresentanti diplomatici all'estero. Nel suo studio nel 1965 Atomic Diplomacy Hiroshima and Postem lo storico Gar Alperovitz scrive sebbene fossero stati fatti da parte del Giappone dei tentativi per la pace già nel settembre del 1944 e Chiang Kai-shek fosse stato avvicinato per un'eventuale resa nel dicembre del 1944 il vero sforzo per porre fine alla guerra iniziò nella primavera del 1945 questo sforzo metteva in rilievo il ruolo dell'Unione Sovietica alla metà di aprile del 1945 il comitato congiunto dell'intelligence americano riferì che i capi giapponesi stavano cercando un modo per modificare i termini della resa che sarebbe stata offerta alla fine della guerra il Dipartimento di Stato si convinse che l'imperatore stava cercando attivamente un modo di fermare il conflitto fu solo dopo la guerra che l'opinione pubblica americana prese degli sforzi del Giappone per porre termini al conflitto il reporter del Chicago Tribune Walter Trohan ad esempio fu obbligato dalla censura di guerra a nascondere per sette mesi una delle storie più importanti della guerra in un articolo apparso finalmente il 19 agosto del 1945 sulle prime pagine del Chicago Tribune e del Washington Time Harold Trohan rivelò che il 20 gennaio del 1945 due giorni prima del suo commiato dall'incontro di Yalta con Stalin e Churchill il presidente Roosevelt ricevette un memorandum di 40 pagine dal generale Douglas MacArthur che descriveva cinque distinte proposte di resa da parte di funzionari giapponesi di alto rango il testo completo dell'articolo di Trohan può essere letto nel numero dell'inverno 1985-86 del Journal of Historical Review questo memorandum mostrava che i giapponesi avevano offerto una proposta di resa praticamente identica a quella infine accettata dagli americani nella cerimonia formale di resa del 2 settembre vale a dire resa incondizionata tranne la persona dell'imperatore in particolare i termini di questa proposta di pace comprendevano resa totale di tutte le forze giapponesi in patria nei possedimenti delle isole e nei paesi occupati occupazione del Giappone e dei suoi possedimenti da parte delle truppe alleate sotto la direzione americana il blocco dell'industria bellica giapponese il rilascio di tutti i prigionieri di guerra e gli internati la consegna dei criminali di guerra designati dagli alleati è autentico questo memorandum? venne presuntamente passato a Trohan dall'ammiraglio William V. I capo di stato maggiore lo storico Harry Elmer Burness ha detto in proposito l'autenticità dell'articolo di Trohan non fu mai messo in dubbio dalla Casa Bianca o dal Dipartimento di Stato e per ragioni assai valide dopo che il generale MacArthur ritornò dalla Corea nel 1951 il suo vicino nelle Waldorf Towers l'ex presidente Herbert Hoover porse l'articolo di Trohan al generale e quest'ultimo confermò la sua esattezza in ogni dettaglio e senza precisazioni nell'aprile e nel maggio del 1945 il Giappone fece tre tentativi attraverso i paesi neutrali della Svezia e del Portogallo per porre termini alla guerra in modo pacifico il 7 aprile il ministro degli esteri Mamoru Shigemitsu si incontrò con l'ambasciatore svedese Widon Bagge a Tokyo chiedendogli di accertare quali condizioni di pace gli Stati Uniti e l'Inghilterra avevano in mente ma egli sottolineò che la resa incondizionata era inaccettabile e che l'imperatore non doveva essere toccato Bagge comunicò il messaggio agli Stati Uniti ma il segretario di Stato Stettinius disse all'ambasciatore americano in Svezia di non mostrare nessun interesse o di prendere iniziative per dare seguito alla questione segnali di pace analoghi da parte del Giappone attraverso il Portogallo il 7 maggio e di nuovo attraverso la Svezia il 10 rimasero parimenti infruttuosi dalla metà di giugno sei membri del Supremo Consiglio di Guerra del Giappone avevano segretamente incaricato il ministro degli esseri Shigenori Togo di avvicinare i capi della Russia sovietica con l'intenzione di terminare la guerra possibilmente a settembre il 22 giugno l'imperatore convocò una riunione del Supremo Consiglio di Guerra che comprendeva il primo ministro il ministro degli esteri e i principali capi dell'esercito abbiamo ascoltato abbastanza questa vostra determinazione di combattere fino all'ultimo soldato disse l'imperatore desideriamo che voi guide del Giappone cerchiate di studiare i modi e i mezzi per concludere la guerra in tal modo cercate di non essere vincolati dalle decisioni che avete preso in passato dall'inizio di luglio gli stati uniti avevano intercettato messaggi da Togo all'ambasciatore giapponese a Mosca Nautake Sato che mostravano che lo stesso imperatore aveva preso parte allo sforzo di pace e aveva ordinato di chiedere all'unione sovietica un aiuto per porre termine alla guerra gli americani sapevano anche che l'ostacolo principale contro le fine della guerra era l'insistenza americana per una resa incondizionata una richiesta che precludeva ogni negoziato i giapponesi erano disposti ad accettare quasi tutto tranne rovesciare il loro imperatore semi divino erede di una dinastia antica 2600 anni Irohito era considerato dal suo popolo come il dio vivente che personificava la nazione fino alla trasmissione radio del 15 agosto del suo annuncio di resa i giapponesi non avevano mai sentito la sua voce in particolare i giapponesi temevano che gli americani avrebbero umiliato l'imperatore e che lo avrebbero addirittura giustiziato come criminale di guerra il 12 luglio Irohito convocò Fuminaro Conoie che aveva fatto il primo ministro nel 1940-41 spiegando che sarà necessario ultimare la guerra senza ritardo l'imperatore disse che desiderava che Conoie ottenesse la pace con gli americani e gli inglesi per mezzo dei sovietici come il principe Conoie ricordò in seguito l'imperatore lo istruì ad ottenere la pace a qualunque prezzo nonostante la durezza delle condizioni il giorno successivo il 13 luglio il ministro degli estri Shigenori Togo telefonò all'ambasciatore Nautake Sato a Mosca comunicando il forte desiderio di sua maestà di ottenere la fine della guerra il solo ostacolo alla pace è la resa incondizionata il 17 luglio un altro messaggio giapponese interaccettato rivelava che sebbene i capi del Giappone ritenessero che la formula della resa incondizionata implicava un disonore inaccettabile erano convinti che la richiesta dei tempi rendesse la mediazione sovietica assolutamente essenziale ulteriori messaggi diplomatici indicavano che la sola condizione richiesta dai giapponesi era il mantenimento della nostra forma di governo il solo punto difficile rivelava un messaggio del 25 luglio è la formalità della resa incondizionata riassumendo i messaggi tra Togo e Sato l'intelligence della marina statunitense disse che i capi giapponesi sebbene ancora ricalcitranti alla condizione della resa incondizionata riconoscevano che la guerra era perduta ed erano arrivati al punto di non avere obiezioni al ripristino della pace sulla base della carta atlantica del 1941 questi messaggi disse il vice segretario della marina Levi Strauss in realtà esigevano soltanto che dovesse essere preservata l'integrità della famiglia reale giapponese il segretario della marina James Forrestal definì i messaggi intercettati come vera prova del desiderio dei giapponesi di uscire dalla guerra con l'intercettamento di questi messaggi osserva lo storico Alperovitz non ci poteva essere più alcun vero dubbio sulle intenzioni giapponesi le manovre erano palesi ed esplicite e soprattutto erano costituite da atti ufficiali coi Kikido il guardasigilli del Giappone e stretto consigliere dell'imperatore affermò in seguito la nostra decisione di cercare una via d'uscita da questa guerra venne presa all'inizio di giugno prima che venissero sganciate le bombe atomiche e che la Russia entrasse in guerra era già la nostra decisione a dispetto di ciò il 26 luglio i capi degli Stati Uniti e dell'Inghilterra rilasciarono la dichiarazione di Postam che comprendeva questo sinistro ultimatum noi invitiamo il governo del Giappone a proclamare ora la resa incondizionata di tutte le forze armate giapponesi e di fornire opportuna e adeguata assicurazione di buona fede in tale operato l'alternativa per il Giappone è l'immediata e totale distruzione commentando questo proclama draconiano nel suo out out lo storico inglese Fuller scrisse non una parola venne detta sull'imperatore perché sarebbe stata inaccettabile alle masse americane nutrite di propaganda i capi americani capivano la posizione disperata del Giappone i giapponesi desideravano porre termini alla guerra a qualunque condizione purché l'imperatore non venisse preso di mira se il comando americano non avesse insistito sulla resa incondizionata vale a dire se fosse stata messa in chiaro la volontà di permettere all'imperatore di rimanere al potere i giapponesi molto probabilmente si sarebbero immediatamente arresi salvando così molte migliaia di vite la trista ironia è che come è emerso in realtà i capi americani decisero comunque di mantenere l'imperatore come simbolo di autorità e di continuità essi capirono correttamente che eruita era utile come uomo di paglia per la loro stessa autorità d'occupazione nel Giappone del dopoguerra il presidente Truman difese tenacemente il suo impiego della bomba atomica affermando che salvò milioni di vite portando la guerra a una rapida conclusione giustificando la sua decisione egli arrivò a dichiarare il mondo noterà che la prima bomba atomica venne lanciata su Hiroshima una base militare fu così perché volevamo evitare in questo primo attacco per quanto possibile l'uccisione di civili questa fu un'affermazione assurda in realtà quasi tutte le vittime erano civili e lo United States Strategic Bombing Survey l'indagine degli Stati Uniti sui bombardamenti strategici pubblicato nel 1946 affermò nel suo rapporto ufficiale Hiroshima e Nagasaki vennero scelte come obiettivi a causa della loro concentrazione di attività e di popolazione se la bomba atomica venne lanciata per impressionare i capi giapponesi con l'enorme potere distruttivo della nuova arma questo scopo avrebbe potuto essere raggiunto impiegandola contro una base militare isolata non era necessario distruggere una grande città e qualunque fosse la giustificazione per l'esplosione di Hiroshima è molto più difficile difendere il secondo bombardamento di Nagasaki nonostante ciò la maggior parte degli americani hanno accettato e continuano ad accettare le giustificazioni ufficiali dei bombardamenti abituati ai ritratti rozzamente propagandistici dei giapp come bestie praticamente subumane la maggior parte degli americani nel 1945 accoglievano con grande entusiasmo ogni nuova arma che avrebbe annientato il maggior numero possibile dei detestati asiatici e avrebbe aiutato a vendicare l'attacco dei giapponesi per Arbor l'opinione dei giovani americani che stavano combattendo i giapponesi in aspri combattimenti era grazie a Dio per la bomba atomica pressoché all'unanimità erano grati per un'arma il cui impiego sembrava porre fine alla guerra permettendo loro di ritornare a casa dopo la distruzione di Hamburgo con i bombardamenti incendiari dopo l'olocausto di Dresda della metà di febbraio del 1945 e dopo i bombardamenti incendiari di Tokyo e di altre città giapponesi i capi americani erano generalmente assuefatti allo sterminio dei civili per il presidente Harry Truman l'uccisione di decine di migliaia di civili giapponesi semplicemente non era un fattore di giudizio nella sua decisione di utilizzare la bomba atomica in mezzo in mezzo all'entusiasmo generale c'era qualcuno che nutriva qualche grave dubbio siamo gli eredi del mantello di Gengis Khan scrisse l'editorialista del New York Times Hanson Baldwin e di tutti coloro che nel corso della storia hanno giustificato l'uso della totale spietatezza in guerra Norman Thomas definì Nagasaki la più grande singola atrocità di una guerra molto crudele Joseph Kennedy padre del presidente rimase altrettanto inorridito una voce preeminente del protestantecimo americano il Christian Centuri condannò fortemente i bombardamenti un editoriale intitolato l'atrocità atomica americana nel numero del 29 agosto 45 disse ai lettori la bomba atomica è stata utilizzata in un momento in cui la marina giapponese era colata a picco la sua aviazione praticamente distrutta il suo territorio circondato i suoi rifornimenti tagliati e le nostre forze pronte per l'attacco finale i nostri capi sembravano non aver soppesato le considerazioni morali inerenti non appena la bomba fu pronta venne inviata d'urgenza al fronte e lanciata su due città inermi si può dire onestamente che la bomba atomica ha colpito la stessa cristianità le chiese d'america e con esse la loro fede si devono dissociare da questo atto sconsiderato e inumano del governo americano una voce preeminente del cattolicesimo americano il commonwealth espresse un'opinione simile il ossimo e nagasaki venne scritto nell'editoriale della rivista rappresentano la colpa e la vergogna dell'america il papa più dodicesimo condannò parimenti i bombardamenti esprimendo un parere conforme alla posizione tradizionale cattolica romana secondo cui ogni atto di guerra diretto alla distruzione indiscriminata di intere città o di vaste aree con i loro abitanti è un crimine contro dio e l'umanità il giornale del vaticano l'osservatore romano così si espresse nel suo numero del 7 agosto 1945 questa guerra riserva una conclusione catastrofica incredibilmente quest'arma distruttiva rimane come una tentazione per la posterità che lo sappiamo per amare esperienza impara così poco dalla storia i capi americani che si trovavano in una posizione adatta per conoscere i fatti non credevano sia all'epoca che in seguito che i bombardamenti atomici fossero necessari per porre termine alla guerra quando il generale Eisenhower venne informato alla metà di luglio del 45 dal segretario di guerra Harry Stimson della decisione di utilizzare la bomba atomica rimase profondamente turbato egli espresse le proprie forti riserve sull'utilizzo della nuova arma nelle sue memorie del 1963 durante il suo racconto di Stimson dei fatti rilevanti mi era avvenuto un senso di depressione e così gli espressi i miei gravi dubbi primo sulla base della mia convinzione che il Giappone era già sconfitto e che sganciare la bomba non era assolutamente necessario e secondo perché pensavo che il nostro paese dovesse evitare di scioccare l'opinione pubblica mondiale con l'utilizzo di un'arma il cui impiego pensavo non era più indispensabile per salvare vite umane era mia convinzione che il Giappone stava proprio in quel momento cercando qualche scappatoia per arrendersi con una perdita minima della propria faccia i giapponesi erano pronti ad arrendersi e non era necessario colpirli con questa cosa orribile odiavo vedere il nostro paese utilizzare per primo tale arma disse Eisenhower nel 1963 poco dopo il V-Day la fine della guerra nel Pacifico il generale Bonny Fellers riassunse la questione in un memorandum per il generale MacArthur e la bomba atomica nell'entrata in guerra dell'Unione Sovietica provocò la resa incondizionata del Giappone esso era già sconfitto prima che questi avvenimenti ebbero luogo in un modo simile l'ammiraglio Leahi capo di Stato Maggiore dei Presidenti Roosevelt e Truman commentò in seguito la mia opinione è che l'utilizzo dell'arma Barbara a Hiroshima e Nagasaki non fu di aiuto materiale alla nostra guerra contro il Giappone i giapponesi erano già sconfitti e pronti ad arrendersi a causa dell'efficace blocco navale e dei riusciti bombardamenti con armi convenzionali la mia impressione era che nell'utilizzarla per primi avevamo adottato il criterio etico proprio dei barbari delle età oscure non mi era stato insegnato a fare la guerra in quel modo e le guerre non possono essere vinte distruggendo donne e bambini se gli Stati Uniti avessero aspettato disse l'ammiraglio Ernest King capo delle operazioni navali degli Stati Uniti l'efficace blocco navale avrebbe nel corso del tempo affamato i giapponesi fino a provocarne la resa per mezzo della mancanza di petrolio riso medicinali ed altri beni essenziali Leo Zillard uno scienziato di nascita ungherese che ebbe un ruolo determinante nello sviluppo della bomba atomica argomentò contro il suo utilizzo il Giappone era essenzialmente sconfitto disse e sarebbe stato sbagliato attaccare le sue città con bombe atomiche come se le bombe atomiche fossero state semplicemente una delle armi a disposizione in un articolo del 1960 Zillard scrisse se i tedeschi avessero lanciato bombe atomiche su delle città al posto nostro noi lo avremmo definito un crimine di guerra e avremmo sentenziato a Nolimberg che i tedeschi erano meritevoli di morte per questo crimine e li avremmo impiccati dopo aver studiato l'argomento in grande dettaglio l'indagine sul bombardamento strategico degli Stati Uniti rigettò la nozione che il Giappone si arrese a causa dei bombardamenti atomici nel suo autorevole rapporto del 1946 l'indagine concludeva le bombe di Hiroshima e Nagasaki non sconfissero il Giappone né esse secondo la testimonianza dei capi nemici che posero termine alla guerra convinsero il Giappone ad accettare la resa incondizionata l'imperatore guarda Sicili il primo ministro il ministro degli esteri e il ministro della marina avevano deciso già nel maggio del 1946 che la guerra dovesse essere terminata anche se ciò significava l'accettazione della sconfitta alle condizioni degli alleati la missione del governo Suzuki nominato il 7 aprile del 1945 era di concludere la pace un'apparenza di negoziato per condizioni meno onerose della resa incondizionata venne mantenuta per contenere la reazione degli elementi dell'esercito e della burocrazia ancora determinati ad una difesa finale in stile buscido e forse aspetto ancora più importante per ottenere la libertà di costruire una pace con un minimo di pericolo personale e di opposizione interna sembra chiaro tuttavia che da ultimo i negoziatori volevano la pace e la pace a qualunque condizione questa era la sostanza del consiglio dato a eroito dal Yushin a febbraio la conclusione dichiarata di Kido in aprile la ragione sottostante alla caduta di Koizo in aprile la specifica ingiunzione dell'imperatore Suzuki all'atto di diventare premier ingiunzione conosciuta da tutti i membri del suo gabinetto negoziati per convincere la Russia a fungere da intermediaria iniziarono nella prima metà di maggio del 1945 Konoye l'emissario designato per trattare con i sovietici dichiarò a questa indagine di aver ricevuto istruzioni dirette e segrete dall'imperatore di assicurare la pace a qualunque prezzo nonostante la sua durezza sembra chiaro che la supremazia dell'aria e il suo sfruttamento successivo fu il fattore principale che determinò la scelta della resa da parte del Giappone e che evitò la necessità di invadere il paese basata su un'indagine dettagliata di tutti i fatti e sostenuta dalla testimonianza dei capi giapponesi coinvolti sopravvissuti è opinione dell'indagine che certamente prima del 31 dicembre del 1945 e con tutta probabilità prima del 1 novembre del 1945 la data della progettata invasione americana in Giappone si sarebbe arreso anche se le bombe atomiche non fossero state lanciate anche se la Russia non fosse entrata in guerra e anche se nessuna invasione fosse stata prevista o progettata il fatto è che per quanto riguarda i militaristi giapponesi la bomba atomica era solo un'altra arma le due bombe su Hiroshima e Nagasaki furono la ciliegina sulla torta e non fecero tanto danno quanto i bombardamenti incendiari sulle città giapponesi la campagna di bombardamenti dei B-29 aveva provocato la distruzione di 3 milioni 100 mila abitazioni lasciando 15 milioni di persone senza casa e uccidendone un milione furono i bombardamenti spietati e l'intuizione di Hirohito che se fosse stato necessario al raggiungimento della resa incondizionata gli alleati avrebbero distrutto il Giappone completamente e ucciso ogni giapponese a persuaderlo di porre termine alla guerra la bomba atomica è davvero un'arma spaventosa ma non fu la causa della resa anche se il mito persiste ancora oggi in un nuovo libro incisivo la decisione di lanciare la bomba atomica Weinstock conclude che i bombardamenti non furono solo inutili ma furono basati su una politica vendicativa che danneggiò in realtà gli interessi americani e gli scrive dall'aprile del 1945 i capi del Giappone capirono che la guerra era perduta il loro principale impedimento alla resa era l'insistenza degli Stati Uniti sulla resa incondizionata essi in particolare avevano bisogno di sapere se gli Stati Uniti avessero permesso a Eroito di rimanere sul trono essi temevano che gli Stati Uniti lo avrebbero deposto processandolo come criminale di guerra o addirittura giustiziandolo la resa incondizionata fu una politica di vendetta e danneggiò l'interesse nazionale americano prolungò la guerra sia in Europa che nell'Asia orientale e aiutò ad espandere il potere sovietico in queste aree il generale Douglas MacArthur comandante dell'esercito americano nel Pacifico dichiarò in numerose occasioni prima della sua morte che la bomba atomica fu completamente inutile da un punto di vista militare il mio staff riteneva all'unanimità che il Giappone stava sul punto di crollare e di arrendersi il generale Curtis LeMay che aveva iniziato i bombardamenti di precisione della Germania e del Giappone e che più tardi guidò il comando strategico dell'aria e fu capo di stato maggiore dell'aviazione lo disse nel modo più conciso la bomba atomica non aveva niente a che fare con la fine della guerra Il progetto Manhattan era stato originariamente concepito per contrastare il programma atomico della Germania nazista e con la sconfitta tedesca diversi scienziati che lavoravano al progetto sentirono che gli Stati Uniti non dovevano essere i primi ad usare una tale arma due dei principali critici del bombardamento furono Albert Einstein e Leo Szilard che assieme avevano spronato la prima ricerca sulla bomba nel 1939 con una lettera scritta a quattro mani indirizzata al presidente Roosevelt per poi cambiare idea una volta saputo dell'effettivo potere distruttivo della bomba inizialmente Einstein sottovalutò questa capacità Nei giorni precedenti molti scienziati incluso il fisico nucleare statunitense Taylor sostennero che il potere distruttivo della bomba doveva essere dimostrato senza fare vittime per esempio sganciando la bomba in una zona non abitata del Giappone come avvertimento nei confronti del governo giapponese questa soluzione però non ottenne favori perché avrebbe comportato il consumo a vuoto di una bomba erano costose e richiedevano tempi lunghi per la loro costruzione e non vi erano certezze che un tale test avrebbe invece informato i giapponesi del pericolo spingendoli ad allertarsi ancora di più per cercare di intercettare un'eventuale missione di attacco atomico i bombardamenti assieme agli altri attacchi ai civili si potevano ritenere violazioni delle convenzioni dell'AIA del 1899 e del 1907 che erano state ratificate dal senato degli stati uniti nel 1902 e nel 1908 la convenzione dell'AIA del 1907 concernente le lezzi e gli usi della guerra per terra vigente all'epoca recitava all'articolo 25 è vietato attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo città villaggi abitazioni o edifici che non siano difesi l'esistenza dei resoconti storici che indicano che la decisione di usare le bombe atomiche venne presa allo scopo di provocare una resa anticipata del Giappone tramite l'uso di un potere impressionante unita all'osservazione che le bombe vennero usate di proposito su obiettivi che includevano dei civili ha fatto sì che alcuni commentatori osservassero che l'evento fu un atto di terrorismo di stato lo storico Robert Newman che è a favore della decisione di sganciare le bombe prese l'accusa di terrorismo di stato abbastanza seriamente per replicare che la pratica del terrorismo è giustificata in alcuni casi secondo un'altra critica gli Stati Uniti avrebbero dovuto aspettare un breve periodo per valutare gli effetti dell'entrata in guerra dell'Unione Sovietica gli Stati Uniti sapevano al contrario del Giappone che l'Unione Sovietica aveva accettato di dichiarare guerra al Giappone tre mesi dopo la vittoria in Europa e tale attacco venne in effetti lanciato l'8 agosto del 1945 la perdita di qualsiasi possibilità che l'Unione Sovietica potesse servire da mediatore neutrale per un negoziato di pace accoppiata all'entrata in combattimento dell'armata rossa il più grande esercito attivo del mondo avrebbe potuto essere sufficiente a convincere i militari giapponesi del bisogno di accettare i termini della dichiarazione di Postam oltre a qualche condizione per l'imperatore poiché nessuna invasione statunitense era imminente si è sostenuto che gli Stati Uniti non avevano niente da perdere nell'aspettare diversi giorni per vedere se la guerra poteva essere cessata senza l'uso della bomba atomica per come si svolsero i fatti la decisione di arrendersi del Giappone venne presa prima che la portata dell'attacco sovietico alla Manciuria all'isola di Sakhalin e alle isole Kuriri fosse nota ma se la guerra fosse continuata i sovietici sarebbero stati in grado di invadere Hokkaido ben prima dell'invasione alleata altre fonti giapponesi hanno affermato che gli stessi bombardamenti atomici non furono la ragione principale della capitolazione essi sostengono invece che furono le rapide e devastanti vittorie sovietiche sul continente della settimana seguente alla dichiarazione di guerra che spinsero al messaggio di resa del Giappone il 15 agosto del 1945 abbiamo concordato che qualunque sia il giudizio che si può avere della guerra in principio i bombardamenti a sorpresa di Hiroshima e Nagasaki sono moralmente indifendibili anche la scelta di utilizzare bersagli civili anziché militari è stata spesso criticata da una parte i militari statunitensi erano ansiosi di utilizzare le bombe atomiche sulle città per poter verificare al meglio le potenzialità di un ordigno nucleare sul campo di battaglia dall'altra c'è da rimarcare che gli Stati Uniti stavano già portando avanti una politica di massicci attacchi incendiari su obiettivi civili in Giappone durante questi attacchi il 20% degli esplosivi aveva lo scopo di spezzare le strutture di legno degli edifici mentre il restante 80% composto da piccole bombe incendiarie dava fuoco alle città tali raid distrussero completamente molte città giapponesi compresa Tokyo ancora prima dell'utilizzo delle armi atomiche questi tipi di bombardamenti vennero condotti a causa del fatto che l'industria giapponesa era estremamente dispersa tra gli edifici civili con tante piccole fabbriche a conduzione familiare operanti in mezzo alle abitazioni il primo atto della guerra fredda è opinione diffusa che i bombardamenti atomici non mirassero solo a una pronta resa del Giappone ma costituissero anche un monito all'alleato sovietico la resa del Giappone prima del concordato intervento sovietico in Estremo Oriente non solo avrebbe evitato la creazione di diverse zone d'occupazione come era avvenuto in Germania ma avrebbe inoltre privato l'unione sovietica di pegni territoriali da far valere al tavolo della pace si è trattato inoltre di un'ostentazione spettacolare di una nuova potenza distruttrice permessa dall'uso congiunto dell'aviazione e dell'arma nucleare non posseduta dall'unione sovietica potenza essenzialmente terrestre e sarebbe stata molto vulnerabile ai bombardamenti strategici lo scopo era quindi bilanciare lo strapotere sovietico terrestre ottenuto grazie alla decisiva vittoria contro il terzo Reich con la minaccia di una ritorzione spaventosa contro la quale non apparivano possibili difese in tale logica va inquadrato il laconico accenno di Truman a Stalin durante la conferenza di Potsdam riguardo a una nuova arma e al fatto che l'incursione su Hiroshima avvenne prima dello spirale del termine concordato per l'intervento sovietico in Estremo Oriente è chissilin hasta di oggi per l'introduzione e se nelle luce la il esânmez camp rough Grazie a tutti